Franco e Ciccio in Bella Mostra è una grande iniziativa, firma anche del centro sperimentale di cinematografia e l'assessorato al turismo della regione siciliana. Franco e Ciccio ritornano a casa per certi aspetti perché la scuola del cinema di Palermo e i cantieri culturali della Zisa diventa il suo luogo naturale per mostrare tutto quello che sono i ricordi legati a questa straordinaria coppia. Tutto questo grazie all'impegno di amici, di collezionisti, del direttore Panasci ma soprattutto grazie al sostegno dell'assessorato regionale al turismo, la Film Commission che ha creduto anche per quest'anno nel ricordo di questa celebre coppia per tenere viva soprattutto la memoria. E quindi vi diamo appuntamento questa sera alle 18. C'è una novità importante che è quella relativa alla proiezione di un film che fu ritirato e censurato nel 1980 che è Crema, Cioccolata e Paprica. Sarà una grande sorpresa per Palermo, vi aspettiamo numerosi. La mostra sarà aperta fino a quando? La mostra rimarrà aperta da questa sera fino al 19, la serata conclusiva che dedicheremo interamente alla solidarietà, al sociale con il gruppo Albatross. È una mostra molto bella, ci sono anche i costumi della Sartoria Pipi, quindi vi invitiamo a venirla a vedere. Grazie a tutti.